Il prossimo brano è di Johannes Brahms. Questa è la danza ungerese numero 5. Vorremmo dedicare questo brano a quelli che volevano venire a questo concerto, ma non sono potuti venire. Vi ricordo che questo brano e tutti i brani che sentirete stasera sono presenti sul nostro nuovo cibi di vendite dopo il concerto per 50 euro. Grazie. 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 Grazie.